Salve Pupuferi e Pupuferi, bentornati a questo nuovo video. In questo nuovo video vi farò vedere una partita a Pokémon in real life con due miei amici. Salutate! Ciao! Ciao! Ok, allora, due mazzi del momento. Uno è l'Hostzone e l'altro è il Cersadez. Quindi sono due mazzi del momento che si affronteranno tra di loro e che vinca il migliore. Buona fortuna, ragazzi! Chi ha breccato e chi no? Vediamo. Io ce l'ho. Anche io. Buona, allora, nessuno di lui ha breccato. Adesso, croce? Adesso. Croce. Croce. Eh, partita. E' bene. 4, 5, 6. Vabbè, micchia, però tu inizi già di Dragonite. Beh, non è proprio un inizio migliore. Non è la partenza migliore. E poi in mano c'è le buone carte. Oh, lui già gioca una... Paceball. Niente. Vediamo se sarà una partita veloce o una partita breve. Eh, intimo che questa sarà breve. Oh, energia. Oh, energia. Ah, attenzione. Ok. Facciamo, 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 facciamo. Acromio. Guardiamo le prime 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo cosa prende. E qua c'è l'imbrazzo della scelta. E qua c'è davvero l'imbrazzo della scelta. Io prendo in mano una, due e tre. Tutto Sablai e Cana da Pesca, diciamo, nella zona perduta. Segniamo che sono due. Mettiamo giù il Pokestop. Attiviamo Pokestop e prime 3. 1, 2, 2 e 3. Cimitero. Cimitero. Mazzo. Ebbè, portare il miraggio, non male. Non è male, facciamo. C'è in mano una mano decente. Abbastanza, perché non riesco ad attaccare. Però facciamo così. Eh, però puoi usare già. Un minero. Ti vuoi prendere un Pokémon in panchina. Eh, mi vado a prendere un Confi. Eh, ci sta. Facciamo vedere. Confi, quello alternativo. Che ci sta. Sto cercando di collezionarli tutti e quattro così, perché sono veramente qualcosa di incredibile. Eh, beh, quell'alternativo sì. Puoi usare? No. Ok. Faccio una fune di fuga. Eh sì, perché lui non può cambiare, perché ha solo un Pokémon attivo. Siamo a 3. Confi. Fune di fuga, lo cambio. Abilità. Sì, vabbè. Così, così. Eh sì, perché facciamo vedere. Facciamo vedere le cose fatte bene. Fatte bene. E niente, questa partita l'ho vinta. Quattro. Nella minor boss ho visto bene, so Cramorant. 110. Esatto. Hai vinto. Vediamo. Cramorant ce l'hai. No. Cazzo, ce ne hai nei premi, mi sa. Nei premi, sì. Eh, però, e quindi? Nei premi. Diamo la possibilità al mio avversario di giocare. Eh certo, diamo la possibilità all'avversario. Ma non lo facciamo giocare lo stesso, devo chiuderlo adesso. Ok. Facciamo lui. Allora. Allora. Allora, tanto lui è partito male, quindi hai la possibilità di chiuderlo. L'ho da voglia. Vai. Ok. Allora. Riusciamo a chiuderlo adesso? No. Sono a quattro, eh? Eh sì, sei a quattro carte nella zona perduta. Allora, sono a quattro, sono a quattro, sono a quattro, sono a quattro, cinque, sei. Beh, ho fatto un turno incredibile. Sì, esatto, sono a sei, vado a fare un'altra fune di fuga dove vado a mettere Raikou, abilità di Raikou. Sì. Mana. Beh, lo puoi mettere in panchina volendo. Cavolo. Puoi andare. Non riusciamo a chiudere, ragazzi, che peccato. Peccato, potremmo chiudere subito. La partita. Così l'avversario può giocare. Ah, sì. Sì. E così. Ok. Attenzione. Cosa fa? Non fa avversario. Vediamo cosa fa l'avversario. È un po' in difficoltà. Metto un altro Charmander. Ok. Ci sta. Non è normale. Facciamo se riuscire a evolvere. Vediamo. Provo. E adesso faccio ricerca academic. Ok, ricerca academic. Scarti peschi sette. Ci sta. Bella scelta. È bello. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non è male la sua mano, eh? Non è male, ti dico. È visto dal video. C'è un'altra. Con l'alternativo questo, sì. È un promo. È bello. Un'altra dietro. Un'altra dietro. Va bene. Perché dalla situazione che era finita... L'aveva composta la partita. Eh, beh, sì. Diciamo che aveva già perso. Se non ne voleva, aveva perso. Eh, ci sta. Però così... Rende più interessante questa partita, dai. Rende interessante la partita. Capò. Quanto fai? 210. 180 di base più 30 perché è un vip. Ci sto. Ci sta. Si pesca le tante premio. Va bene. E termina il turno, quindi. Tocca a te, bro. Va bene. Pesca carta. Poteva dar meglio nella pescata, però... Abilità. Per forza. Eh. Fosse arrivato prima... Fosse arrivato prima sarebbe stato... It's a good. Sono a sette. Sono a sette. Sono a sette. Puoi usare... Voli... No, perché ho manca l'energia. Ah, già, è vero. Fule. Così si è costruita a cambiare il Pokémon. Abilità. Ne abbiamo un po'. Sperando. Ci sto. Sono a otto. Otto. Acromio. Acromio arriva a dieci. Tre, quattro... E una che riportavo cinque. Eh, era la di imbarzo della scelta qua. Abbiamo ovviamente questa, questa e questa. Era la di imbarzo della scelta qua. Anzi no, ti dirò di più. Sai cosa faccio? Io prendo queste tre. Ci sta. Prendo queste tre. E sei a dieci. E beh, sì, ma penso anche perché... Penso che tanti avranno anche capito il motivo. Se hanno visto quanto c'è in mano... E beh... Io so già... Lei sa, lei sa, lei sa. Io so già la mossa che lei vuole fare con quella carta che ha presa in mano. Questa. No. Ma penso che l'ha intuito anche l'avversario. Penso di sì. Però non è che posso fare chissà tanto. Adesso ti dirò di più, eh. Mi hai messo bene. Mi hai messo bene, sì. Uno, due, tre, quattro. Adesso tu pensi che la funne di fuga poteva essere una carta... Utile. Tutte di insieme in questo momento. Eh sì, perché cambiavi. Esatto, hai capito, eh? Siamo a dieci. Allora, facciamo una roba divertente, va. Io vado a fare... Io vado a fare... Io vado a fare... All'avversario perché tanto ritorno, dove... Sigillo perché c'ho più di sette carte nella zona, alla perduta. Portale magico, non sigillo. Eh sì, scusate. Mi portale. Quindi le carte giuste, bro. C'hai ragione, c'hai ragione, c'hai ragione, scusatemi. Un'emergia acqua e un'energia psico. Ci sta. Ora se vuole l'avversario può alzare. Ok. Volendo posare un altro portale? No, adesso lo faccio così. Utilizzo l'aspiratore perduto. Dove vi vado a togliere... Un sigillo e l'altro sigillo. Ci sta. Sono a posto, faccio scambio. Anzi, carretto di scambio. Carretto di scambio, sì. Così. K.O. lui, quindi... Sono 70? E il resto va su... Ok, 50 dalle su Lichalzard. E io prendo la carta previa. Eh sì. Perché ha fatto K.O. Inutile. Una carta inutile. Eh sì. È piccata un po' una carta inutile, però... Vabbè. Fa parte del... Fa parte del gioco. Vediamo la mossa dell'avversario. Cosa fa? Molta, va bene. Un po' uno. Cioè lui non vedendo niente, cacchiarola, se la sta cavando anche abbastanza bene. Eh beh sì, per non vedere niente, sì. Scart, uno, due. Ok, va a pescare giustamente con la Ultra Ball. Prende un Pokémon. Vediamo qua. Eh sì. Quando... Con la Ultra Ball, sì. Vediamo che carta sceglierà l'avversario. Sì. Ha scelto un Charmander. Un altro Charmander. Onesto. Onesta scelta. Direi che è un'onesta scelta. Quella che ha fatto l'avversario. Anche perché ha subito 50 danni, quindi... Però ne ha 300, quindi 330, quindi a voli. Ora ve lo butti giù. Ma il Charizard è bastardo. Ora ve lo butti giù, Charizard. Anche nel gioco. Charizard è grosso, cioè. Eh sì, è grosso, Charizard. Da buttare giù è grosso. Pepe. Ok. Ah, ha scelto Pepe l'avversario. Prende la carta strumento. Una scelta insolita. Però ci sta. Non ci sta. Fa prendersi la Minerball. Per gli amici Minerball. Minerball, ma noi la chiamiamo Minerball. Minerball. L'abbiamo alterata. Che ci sta. E si giù. Scelta interessante. Da parte dell'avversario. Ok, ci sto. Ha fatto una scelta interessante, devo dire. Ci sta. Eh, ma so già anche forse con la Minerball cosa va a prendere. Pigi. È sicuro. Sicuro come loro. Oh, Pigi. Se vuole fare qualcosa, sì. Perché se no... È l'unica scelta. Eh sì, è l'unica scelta che ha in questo momento. Sì. È ancora quello da 60. Sì. Ah, l'abbiamo trovato un po' di Charmander. La 70, se... Lo vuoi? Se vuoi trovarlo. Dopo che vediamo. Se vuoi trovarlo un po' di problema. Però c'è un mino abbastanza di Charmander. Attenzione, sta facendo i calcoli. Eh sì. Vediamo la mossa che farà l'avversario. Vi facciamo vedere anche l'avviastro che l'avversario ha già usato. L'avversario lo può ancora utilizzare. Quindi la lasciamo qua. Super canna. Ebbè, ci sta. Ci sta. È onesto. Ci sta. È onesto recuperare l'energia. L'avrei fatto anch'io. Sì, anch'io. Perché le energie servono sempre. Quindi l'avrei fatto anch'io. Una scelta saggia. Poi Charizard è un Pokémon che si autoregenera da solo. Cioè fa tutto lui. Eh sì. Fa self-service. Esatto. È un Pokémon self-service. Esatto. È il Pokémon self-service. Capò? Sì, capò. Capò su poveri. E si prende una carta prima in avversario. Vabbè. Tocca a te, bro. Vai. Vediamo cosa pesca il bro. Ma speriamo di fare la mossa buona in questo momento. Allora, pesco carta. Un'energia che mai non è. Mai non è. Una carta che stavo cercando. Esatto. Vado di confi. Vediamo confi che me dà. Eh. Eh. Scelta. No, una scelta giusta perché adesso faccio anche l'abilità di greninio. Scarti uno e peschi due. Ok. No. No, no, no. Eh, portarebbe raggio. Eh, però non doveva andare così. Eh, lo so. Però vabbè. È andato lì. E che devi fare? Quando va così, no. Quando gira il mare al mazzo, è greve. È una situazione greve. Ho visto troppo prima. Esatto. E niente adesso. Niente adesso. Provo a fare un portale che anche se non mi ricordo cosa c'è. Sì. Scelta di giusto. Così e così. Così e così. Eh, potrebbe andare meglio quello. Energia. Ok, per switchare. Non lo metto K.O. E poi rifi danno. Però rifaccio danno. Faccio un altro delay dove vado. Manafi. E tolgo questa. Zana era perduta. 250 se hai 200 di danno. 300. Se hai zana. Hai 130. 130 c'hai. Ti ho fatto 50 danni prima. Sì, giusto. C'è, c'è. No, aspetta. Quanto è? 250, 280 hai? No, 250 più questi sono 250. Quindi sono 300 danni. 200 danni, sì. 300 danni, sì. 300 sono. Quindi hai 30 di vita. Beh, vuoi tenere 30 di vita? Sì. No, tieni 30 di vita. Pesco. Io ragazzi pensavo a fare un'altra cosa. in realtà. Tu hai preso 2. C'ho 5 premio. 5 premio. Quindi ti vado a fare 210, giusto? Sì. Tu hai 10. Il K.O. Non me lo fai. Il K.O. non me lo fai. No, il K.O. non te lo fai. Prima sì. Prima sì. Prima sì. Prima sì. e va a evolvere. L'altro ci ha resa dance. Da buttare giù e tosto. Uno e due. Siamo già a 20 minuti di video. Siamo già a 20 minuti di video quasi. 18 e 25. Vabbè, ci sta. Eh, però ci sta. C'è che ok. Prima. Scambio. Ok. Eh, ci sta. Vi ho fatto la messa giusta. Quello. Senza danni. Sì. Ok. Eh, sì. Prima. Tanto K.O. non vuole lo stesso. Lui non muore. Ma infatti io non voglio fare K.O. su di lui sinceramente. L'ho già capito. Su? Grinja. Lo sapevo io che lo faceva. Sì, è giusto. È giusto. È di giusto. È di giusto. K.O. su Grinja. Esatto. Ok. Faccio così. Eh, bro. Questa situazione è greve. Eh, poi si è messo anche in una situazione di vantaggio. Eh, sì. Wifi. Pesco. Perché lui c'ha due carte premia. Tu ne hai ancora cinque, quindi... È in netto vantaggio. Abilità. Eh, beh, non era male. Devi scegliere bene adesso. Corretto. Abilità. Abilità. È col fine delle carte. Eh, sì. La rischio fino alla fine. Come va va. Eh, sì. Per forza. Butto. Prendo. La tenere. Scarpa. Cargata di scarpe. Butto. Beh, posso godere. Due carte. Due carte. Da. Qua mi sa che vince la vincere o per esalimento deck. Sì. Sai per quel motivo vince? Non solo per il deck ma vince perché... T'ha messo in difficoltà. No, perché c'ho tutte le super canne qui dentro. Eh, sì. E' quello il problema. Sì, beh, ma ha vinto a prescindere. Boss order su quello che fa danno. Eh, sì. Su quello che c'è il danno. Sì, quindi fai K.O. Faccio K.O. K.O. Ti prendi due carte premie ma l'ha vinto a prescindere. E poi faccio K.O. Pregatore di Ford K.O. Bene, la partita è finita. Il video può finire qui. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e commentate soprattutto iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.